E' ritornato a Napoli, dopo dieci anni a broccoli, pasquale americano, ballando il mambo all'Italia. E' per voi della confezza di recenti, logicamente, immagini di commercio. Piazza San Giovanni, oggi è sabato, mercato, gira gente, ma i soldi non girano. Alcune immagini del mercato? Anche questa è per voi confezza di recenti. Questo è un caro ragazzo che fa finta di lavorare, ma insomma, gli dice basta, non ce ne può più, non ce ne può più. Guarda che sei in diretta, che bello! Ciao! Prendi quello lì in diretta, che bello! Vi ringraziamo per aver scelto il nostro profilo, gruppo, amanti, foto, video e GTA. Grazie e buon lavoro a confezza di recenti. Grazie!